Apriolo. Come nuovo allenatore, colui che nella scala di possibilità ha quelle maggiori di bruciare sia chi appara che Agostini. Per Stefano Avincola, una carriera da tecnico vissuta nel cantuccio della Lazio tra giovanissimi allievi di esperienza in Lega Pro neanche a parlarne e questo non è certamente un giudizio di valore. Recchi ancora non pensa all'organico, almeno così dice, anche perché dei sei contrattualizzati del Campobasso il Neo DS già sa chi tenere e chi no. No, Recchi si lascia sfuggire che oltre a Minadeo gli piacerebbe confermare altri quattro. Due di questi potrebbero essere Giorgio Di Vicino e Rosario Maiella, due dei principali artefici del miracolo salvezza. Appena compiuto di fronte a un eventuale divorzio da questi due atleti avremo espresso non poche perplessità. Giuliano si svincolerà il prossimo 30 giugno, anche egli figura sulla lista dei pavabili a rivestire il rosso-blu. Sul fronte societario Di Palma domani a Milano avrà un incontro con uno dei suoi famosi partner. L'accordo da siglare dovrebbe essere una formalità al pari di una stretta di mano. Lo stesso Di Palma aveva annunciato due partnership, anche se nelle ultime ore sembra si possa registrare un altro importante interessamento. Di Palma dovrà portare in Lega circa 450 mila euro, cioè l'ammontare degli stipendi da gennaio ad aprile entro il prossimo 25. Roba da togliere il sonno la notte. Entro il primo luglio bisognerà adempiere una fideiussione di 400 mila euro, un allegato a una tassa di 25 e altri servizi vari pari a 11 mila euro. In tutto fanno 36 mila. Di Palma sarà in Molise domenica sera per poi avere un nuovo incontro con gli amministratori di Palazzo San Giorgio lunedì mattina. Il neopresidente poi riceverà la visita privata di un architetto martedì mattina, cui farà visitare la struttura di Selvapiana. Da lì Di Palma aspetterà una pronuncia del professionista circa la fattibilità di alcuni lavori di ridimensionamento della struttura attuale che dovrebbero essere finanziati dall'Istituto del Credito Sportivo presso cui Di Palma si è recato lunedì mattina. Tanto bolle nel calderone del Campobasso, ma tutti aspettiamo con ansia che Di Palma assolva le scadenze imminenti. L'attesa durerà non più di dieci giorni.